Una serie di furti ad attività commerciali che continuano a preoccupare perché si registrano con sempre più frequenza, in più in un periodo già economicamente al collasso per via della pandemia. Secondo Confcommercio Vittoria sembra piovere sul bagnato. Sappiamo bene, afferma Confcommercio, che gli imprenditori del nostro territorio sono già fortemente provati dalla gravità della situazione economica legata alla pandemia, motivo per cui non possiamo permettere che a tutto questo si aggiungano ulteriori problemi, danni materiali e psicologici causati dalla criminalità. E sotto gli occhi di tutti aggiunge il presidente di Confcommercio Vittoria Gregorio Lenzo il momento di grande fragilità che da quasi un anno stiamo vivendo sotto molti punti di vista. C'è chi sta soffrendo perché ha perso un parente, un amico, che ha perso il lavoro e chi, come tutti, ha rinunciato alla libertà di uscire e stare insieme con gli altri. Le difficoltà sanitarie ed economiche hanno messo a dura prova i cittadini e naturalmente le attività commerciali dislocate in tutto il territorio nazionale. Senza dubbio il coprifuoco dalle 22 alle 5, l'obbligo di chiusura di tanti negozi ed esercizi, nonché l'incuria dei vari siti tanto in città quanto nella frazione di Virasca di Scoglitti, hanno reso le nostre città più vulnerabili ed esposte ai fenomeni criminosi, perché più vuote e anche più silenziose. Gli imprenditori chiedono di non essere lasciati soli. Siamo certi che le forze dell'ordine, conclude Confcommercio, stanno mettendo come sempre tutto il loro impegno per monitorare la situazione anche alla luce dei protocolli di emergenza Covid, ma vogliamo che arrivi alla nostra base associativa un segnale di forte attenzione per le categorie. Grazie a tutti.